Agas, a ichi vaga, vi draste. Huach mii sinna Danayshon, agis fagari uaabasachn noch eich mafaaranthin. Ha uaibbohra acumir queich faast u aich in teieh kem heen. Ach, ca niil mi uaabasach eaoaghourb bagay fast du, eid alin agis has ase aate agis aareunyach gmaa gyafrithgiibha Danayshon. Ciannich min en tei sae weiplein aniri, agis anisht hand me deescheolersNE anoupara sehgarich adthaosichn Aghdu. Grazie a tutti, per l'abbiamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.